Parte il 27 febbraio un percorso di rinnovamento profondo del Museo della Città. Partono i lavori che ci restituiranno un nuovo percorso espositivo nell'ala molto importante del museo che espone la parte alto medievale fino al Rinascimento, con un fulcro centrale di rinnovamento profondo della parte trecentesca che sarà esposta in un modo nuovo e più coinvolgente, più emozionante, più narrativo. L'intenzione è quella di non disorientare il legislatore, di non tediarlo con migliaia di oggetti tutti uguali, ma di raccontare la storia di questa stratificazione tra epoche e periodi diversi che caratterizza questo territorio. Facendo parlare le opere attraverso gli accostamenti, ma recuperando anche la loro funzione originaria come oggetti che sono stati in un altro luogo prima di essere oggetti di un museo. Quindi un museo fondamentalmente più museo, ma al tempo stesso più accogliente, più coinvolgente e speriamo anche più emozionante.